E' stato rilasciato presso l'area del grifone di Alcara-Lifusi Spaki, il grifone proveniente dalla Croazia, rinvenuto ferito nel Parco dei Sicani nel luglio del 2015. Identificato grazie all'anello marker di colore verde con il codice individuale CRA, il grifone trovato in gravi condizioni di deperimento era stato curato dapprima presso il centro di recupero di fauna selvatica di Ficuzza e successivamente ospitato presso la voliera di Alcara, ritenuta alla migliore struttura idonea alla riabilitazione al volo. Oggi rilasci in natura con una suggestiva quanto composta presenza di scolaresca del territorio e una delegazione dell'ente Parco de Nebrodi guidata dal presidente Giuseppe Antoci, dal comune di Alcara-Lifusi con il sindaco Nicola Vanerie e la partecipazione di tanti altri enti e associazioni che hanno avuto a che fare con Spaki durante la sua permanenza in Sicilia. Interessante sarà adesso conoscere e continuare il monitoraggio dell'animale e capire se proseguirà il suo viaggio in altri paesi del Mediterraneo oppure si abbandonerà la sua indole erratica per unirsi alla colonia dei grifoni del Parco de Nebrodi che sulla reintroduzione e conservazione di questo tipo di avvoltoi vanta una specifica esperienza riconosciuta a livello internazionale, tanto che l'ente Parco de Nebrodi presenterà i risultati del proprio progetto al convegno scientifico internazionale sotto le ali del grifone che si terrà a luglio in Sardegna.